Sette autovetture con danni economici incenti e la seconda volta sono entrati in officina asportando soldi dal registratore di cassa, entrando nel magazzino e non sapendo ancora cosa hanno asportato in quanto siamo in fase di inventario. Potrebbe trattarsi di una banda organizzata. Nella sede della Mercedes si è avuto il furto di quattro auto, di cui due recuperate dalle forze dell'ordine vicino Bari. Appena due settimane dopo un secondo e più eclatante tentativo. Sono intrufolati, abbiamo visto poi dalle telecamere, circa una decina persone nel piazzale nostro sempre decente alla concessionaria, dove hanno fatto per circa un paio, quattro ore, hanno preparato tutte le vetture in fila e in coda per cercare di rubarle, che erano proprio 14 autovetture nello specifico. Fortunatamente già dal primo furto abbiamo pensato di mettere dei lucchetti ai cancelli. Hanno visto che il cancello non si apriva e sono resi conti che c'è il lucchetto. Sono corsi subito via. Il nostro custode ha chiamato subito le forze dell'ordine, quindi sono prontamente intervenuti i carabinieri della stazione di Rende con la vigilanza, che in tre minuti si erano qua. Abbiamo subito visto nella zona, quindi non c'era più niente, però siamo stati molto fortunati. Quale iniziative intendete adottare per cercare di difendervi? Ma sinceramente non lo sappiamo, più di quelle che abbiamo fatto in questo momento non lo sappiamo che cosa pare. Grazie a tutti.